Ciao ragazzi, ben ritrovati dall'Inter di Football qui a cercare di creare il calcio interstellare per voi Oggi proviamo a ritornare alla vittoria, siamo ancora in prima dopo una sconfitta contro un altro avversario di prima Bello, forte ragazzi, forte, forte, forte Solo un peccato aver preso gol Un po' il rimpianto di aver messo Quadrato, la verità c'è Che è il primo gol che abbiamo preso, lì lo prendi perché Quadrato non anticipa Non fa quell'intercettazione che avrebbe dovuto fare Peccato, però avversario che ha meritato la vittoria perché ha giocato meglio di noi, più di noi soprattutto Noi non siamo riusciti a essere incisivi una volta avuto il pallone in avanti Sui difensori incredibili Comunque parliamo di Pujol, Maldini e Araujo Quindi ci sta Abbiamo l'Egitto, penso che sia la squadra Seconda divisione, top 1000, anche questo avversario Quella che potrebbe essere la partita, l'ultima partita prima dell'aggiornamento di giovedì Prima partita senza durarmi in formissima, un po' ci dispiace Giusto così Abbiamo Bukinan sulla destra Che è in buono stato di forma, Di Marco sta bene Vediamo un attimo lo straversario che gioca con un 5-3-2 Giberto Silva nella mediana sarà bello che fastidioso Direi che per il resto siamo a posto così Marcature non so se mettere, penso di no in realtà Non giocando lui con Alio e quant'altro Siamo pronti Grazie a tutti Partita Che potrebbe essere comunque complicata Contro una difesa 5 E' sempre duro Ne parliamo noi che giochiamo sempre con una difesa 5 Dovrebbe essere forse il nostro avversario a cominciare Vediamo, non diamo un occhio Eh sì, con La squadra che credo sia legittima, non sono sicuro E si parte Un erroraccio del Giberto Silva subito Poi Michi che va a servire Lautaro scatto alle spalle del difensore Entra nera Lauti La parata del portiere Spazzata in calcio d'angolo Quindi non c'era nessun altro che aveva seguito Lautaro purtroppo Allora che è un Pavard Che riesce a farla passare C'è ancora Lauti Tacco di Bukinan se non erro Ho provato ad andare di tacco a segnare Morato Allora Bastoni Prova a lanciare per Marcos Turam Che prova a fare la sfonda Riesce a servire comunque Lautaro Fermato dal raddoppio proprio di Gilberto Silva Nostra passare che è tutto in avanti Che bello questo anticipo dell'Inter Allora attenzione Con Michi che va proprio da Michi da Turam A servire Lautaro Allora c'è la NoGlu Pavard è bravo in chiusura Ancora l'Inter con C'è la NoGlu Di nuovo per Lautaro in area la chiusura di Ruben 10 è precisa Pedri poi al centro campo Prova a ripartire l'Egitto In avanti a cercare C'è la NoGlu Poi per Mbappé Ancora Pavard con un l'ennesimo anticipo E la partita è appena cominciata Poi Roraccio Qui si salva Perché era stato lasciato solo Lautaro Turam ha provato a servirlo Fermato prima di far partire il passaggio Purtroppo Allora Michi C'è la NoGlu Anticipa In avanti A chiusura di Pavard Allora ancora Buchenan A cercare Mkhitaryan Per Marcos Turam Di nuovo Buchenan Di nuovo a cercare Marcos Turam Centralmente Si fa vedere Lauti Provato ad andarsene al lato Opposto di Costa Curta Non c'è riuscito Grande chiusura invece di 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 Marco Devre Barella all'inter col pallone Poi Ciala che allarga Per Di Marco Servire Lautaro Che si accentra Calce col destro Murato Lautaro Allora Aghimi Chiamato a far ripartire L'Egitto Poi Erroraccio Recupera Turam In aria per Lautaro Non riesce a calciare Grande anticipo da difesa Che salva Di nuovo Altro grande anticipo Di Bastoni Non riesce a tenere Il pallone Invece Lautaro Ancora in avanti Ma c'è sempre Di Marco Poi Lautaro Di primo a cercare Mkhitaryan Di nuovo per Lautinaria A cercare Di Ma Da solo Davanti al portiere Ventesimo Azione incredibile Dell'Inter Con Di Marco Che va a fare il finalizzatore Si infila centralmente E fa 1-0 Sare in pausa Vorrei cambiare forse qualcosa Qualche marcatura forse Che vuole andare a mettere Entra la partita benissimo Partita che in realtà Non dobbiamo vincere ragazzi Altrimenti Rischiamo di ricadere In seconda Altro errore Qui con Mkhitaryan Che erroraccio Qui Non ho capito Cos'è successo Vi dico la verità Mkhitaryan Per Buchenand Di nuovo Il passaggio è impreciso Un po' avuto Senza fallo Dice qui L'arbitro Ma un po' avuto Devri Prima Ancora per Ciala Passaggio però Impreciso Il L'Egitto Che può ripartire Con Gilberto Silva L'1-2 Che funziona Attenzione a Mbappé Che non sbaglia Bello il controllo Ha aspettato Di mettere a sedere Devri Ha fatto 1-1 Ah che brutto L'arbitro L'avversario Praticamente Cominciò a giocare bene Nel momento in cui Ha tolto Tutti avanti Indietro Ma Non Speravo ci fosse Qualcuno All'appoggio Che peccato Bastoni che torna Di nuovo Sulla destra Da Buchenand Si fa vedere Mkhitaryan Visto E servito Aspetta Supporto L'Armeno Di nuovo Per Buchenand Che guadagna Il fondo Il cross Al centro Per lautare Un po' Debole Direi Bravissimo Bastoni Di nuovo Allora C'è la E forse Ho premuto Il tasto Del passaggio Con lautaro Perché pensavo Che non ci arrivasse Invece forse Conveniva Probabilmente Non farlo Bello Questo 1-2 Anche se Abbiamo capito L'intenzione Era quella Non siamo riusciti A anticipare I passaggi Per due volte Di fila Turam Bravo A spazzare La palla Per Costa Curta Fermato Riparte l'Inter C'è Lautaro Lora il contropiede C'è Ciola Noğlu Che sta correndo Sulla sinistra Prova ad andare Ciola Dall'altro lato Arriva Mkhitaryan Passaggio Perfetto Del turco Per l'Armeno E difesa Che dorme 3-1 Contropiede Perfetto Ancora l'Inter Che recupera Con Barella Che va a servire Ho provato a servire Ma ha provato a servire Marcus Turam Poi Barella Bravo qui Buchenan Poi ancora per Mkhitaryan In aria Cercare Lautaro Provato a mettere Al centro Non ci è riuscito Poi il regalo Per Cialanoglu Viene fermato però Da Pedri Era uscito male Anche qui però Altro errore E allora Barella Per Mkhitaryan 1-2 Si infila Mkhitaryan A cercare in aria Marcus Turam Palla cresta Lì indietro Per Lautaro Questa curta Chiusura Altra uscita Brutta Brutta Ma Mkhitaryan Stanno fissando Stanno fissando il punteggio Sul 3-1 Un tiro Un gol Per il nostro avversario Poi non ci sono stati Altri pericoli Presso l'Inter Che sembra in controllo Di questa partita Potrà essere uno solo Fabio 3-1 Già tante emozioni Alla fine di questo Primo tempo Sarà ancora Cercare di prendere Le contromisure Ma E per i nostri Sono tutti Qui mi sa che Siamo tutti Votati all'attacco 4-2-4 Dovremmo aspettare Poi i cambi Per capire Come impostare Le marcature Su Le due ali Non c'è più tempo Se il nostro avversario Non abbia finito Quindi probabilmente Metterà pausa Appena si comincia Infatti Come vi dicevo Ho sentito Che è entrato Maradona Ma penso Aspetteremo Un altro Aspetteremo Anche l'altro cambio Quindi Via dalla difesa 5 Si passa Quella a 4 Noi non possiamo Mettere pausa Adesso Tutti in avanti Non proprio Il migliore di passaggio Attenzione Adesso a Maradona Qui tutti insieme Sono veramente Ci sono veramente Tante persone in avanti Mettiamola così Buchenan Deve controllarla meglio Attenzione Allargata la palla Per Bappé Sulla sinistra Salta l'avversario Alla fine C'è la Il vantaggio Che non si concretizza Sul primo fallo Di Pavard Adesso pausa Ragazzi Ovviamente Andiamo a vedere Le marcature Da impostare Pedri Salah E Saeda Ma poi sono tutti Avanti Tra l'altro Mettiamo comunque Le marcature Sulle ali E nulla di fatto E allora Varela che rilancia Per Lautaro Prova a difendere Il panone Il capitano La palla Che resta lì Arriva Michi Come un treno E poi serve Lautaro La palla Che passa Attenzione Lauti Che salta Il portiere E fa 4 a 1 Un po' Ho avuto paura Che stava calciando Col sinistro L'ho avuta Un po' Di paura Vi dico la verità Che bravo Qui i bastoni Poi c'ha Lauti A cercare Miki E qui Praterie Dall'altro lato Sta arrivando Ciala Che parata Di Courtois Che parata Di Courtois Ragazzi I bastoni Con un passaggio Non proprio precisissimo E attenzione Perché c'è Mezza squadra Dell'Egitto Tutta in avanti Murato Da Pavare Fa un gran Un gran lavoro Difensivo 57esimo Ha provato L'Egitto Con il piede Contropiede Ma hanno già Preso un gol Per questo Schema folle Bastoni E bravo A spazzare via Palla deviata C'è Michi Poi Lauti Tacco per Turam Cercare Barella Non proprio la migliore Delle scelte In questo caso Poi ancora Bastoni In uscita Marcus Turam Di nuovo Per Bastoni Di nuovo Per Marcus Turam Qui l'Inter Gioca Si diverte Ma poi Costa Curta Fa una gran chiusura Qui siamo Senza Bastoni Non ce lo dimentichiamo C'è C'è L'Anoculo Che è rimasto A proteggere Fa buona guardia Però Devrei L'Anoculo Per Marcus Turam Che fa bene La sponda Per Michi Mamma mia Michi Che giocata Poi vede Dall'altro lato C'è Ciala Di prima Per Lautaro In aria Colcia col destro E fa 5 a 1 La giocata di Michi In mezzo a 2 Poi ad aprire Per C'è l'Anoculo Semplicemente Perfetta Bravo ancora Si infila Lautaro Non è fuori gioco Ma il controllo Di Lautaro Però Non è a seguire Altro recupero ancora Fallo qui su Mkhitaryan Dice Liberto Silva Al 66esimo 5 a 1 Diciamo che Ok che vuoi segnare Ma Il punto è che La partita La puoi recuperare Soprattutto se non Continui a prendere gol Turam A cercare Michi Era impossibile Riuscire a essere Firo Poi altro Recupero Di Di Marco Sulla sinistra Può andare Guadagna il fondo Il cross al centro C'è Michi Dall'altro lato La palla spazzata Il colpo di testa Ma Gilberto Silva Capisce tutto Altro errore Perché la palla È per Di Marco Poi Ciala A cercare Mkhitaryan La chiusura Poi Bokkenan Grande anticipo Ancora Bokkenan Col pallone Condelo ferma Bokkenan 1-2 La palla che non passa A un'altra occasione L'Egitto Maradona Bappé Bravo Barella di nuovo Allora di nuovo L'Inter Per Lautaro Che era appena Rientrato dal fuorigioco Non ha funzionato Ancora Diviata Ritorna a Messi Però Bravo Bastone Invece di nuovo Ancora Di Marco Che si infila Centralmente C'è Lautaro Che può andare Per Turam Facile Facile In realtà Mica facile Facile Che Courtois Si è buttato Con un pizzico Di ritardo Ma era sul pallone Mamma mia Somma Maradona Messi Bokkenan Bravissima Recuperà il pallone Parte in velocità Di nuovo Michi Controlla Poi essere Bokkenan Centralmente Per Lautaro Ciala Che fa tutto da solo E prende il palo Ha tenuto a bada Il difensore dietro Di nuovo L'Inter Che continua A giocare Con Bokkenan Turam Di nuovo Per Bokkenan Che guadagna il fondo La mette al centro Palla che resta Lice Bastogna Direttore in avanti E poi Lauti Non sbaglia Lautaro Mi partita Ragazzi Io poi dico Tu avversario Che stai Che stai vedendo Che con tutti questi in avanti Semplicemente Non stai ottenendo Il risultato sperato Perché non stai segnando di più Stai solo prendendo Più gol di prima Dico io Qual è il senso di Continuare per questa strada? Cicciala Non riesce a far passare la palla E qui fuori gioco Comunque sarebbe stato Troppo lento Il passaggio di Lautaro Per Turam Ancora Buchenan Riesce solo a rallentare E c'è il tiro a giro di Messi Però col destro Che se Buchenan Ha provato in qualche modo A intercettare Poco da fare Novantesimo Al tramonto Di un'altra partita Dove Che l'entra ha dominato Senza si e senza ma Non era per lui Ma vedete Per Buchenan Sulla fascia Bravissimo A Barella Ancora perfetto In chiusura Tacco a cercare C'è la Noglu Gilberto Silva Che chiude Ancora la chiusura E Buchenan Che spazza C'è il tempo Per la rimessa laterale Non ho fatto neanche i cambi Ragazzi Che siamo 7 a 1 C'è poco da A gestire Però è da tanto tempo Ragazzi Poco da C'è poco da fare A questo punto Altri cambi I nostri ovviamente Sono stati fatti Tutto questo ragazzi Poi per fare Semplicemente Una rimessa laterale Solo per fare Rimessa laterale Perché appena La palla viene battuta Infatti lui sta aspettando Sì a me Lui ha proprio abbandonato Nel senso che Ha lasciato la partita così Ci ha semplicemente Fatto il dispetto Di farci perdere Tutto il tempo Ma va bene così L'importante è che ci dia La vittoria ragazzi Ecco è esatto Partita che finisce Torniamo a 1815 Risultato più di Tranquillità L'avversario Che tra l'altro Era in seconda Ma arriva anche in prima E qui Non so se siamo stati fortunati Perché in realtà Ha giocato tutto Super offensiva In ogni caso ragazzi È tutto per L'episodio di oggi Domani ci sarà L'aggiornamento Vedremo Vabbè Gioco della settimana Saranno quelli nazionali Quindi poco in realtà da vedere Forse potrebbe uscire un Barella Interessante Visto che Abbiamo Barella ha fatto il gol Ma anche se era Amichevo adesso Non sbaglio Quindi niente di Interessante Ma vedremo ragazzi È tutto per l'episodio di oggi Siamo saldamente in prima Io vi ringrazio Per aver guardato Ci vediamo alla prossima Grazie a tutti